Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, mi trovo su Agarrio Cosa sta facendo qui su Agarrio? Ho installato la mod che ha detto Jumpy Tech l'altro giorno, anzi ieri stesso nel video E sto nel Parigi 2 Lo scopo di oggi sarà fare un po' di gameplay qua sopra su Agarrio E trovare speciale 2000 che non sarebbe altro che Jumpy Tech Che sta facendo lo speciale in questa maniera ragazzi 2000, 200.000 scusate Quindi io direi di andare immediatamente a giocare e sperare di trovarlo Oh ma no no, mi ha mangiato, mi ha mangiato vampersi Ok andiamo nell'altro server a vedere se riusciamo a entrare Ok Jumpy Tech ha appena comunicato che userà anche Francoforte 1 e Francoforte 2 ragazzi Quindi siamo su Francoforte 2, andiamo a vedere se riusciamo a trovarlo Vedo Mephisto, Spartani, Kitty, oddio no ciao Kitty Prussia però, vediamo un po' se lo troviamo Preso Che è successo? Mi ha buttato fuori Sono entrato in Londra 2 adesso, vediamo un po' chi riesco a beccare Oh uova Spider-Man Chi è questo Destroyer? Mamma mia che culo mi sono salvato a pelo Oh Ghost Robbo, chi è Ghost Robbo? Vediamo un po' se lo troviamo qua da ste parti Penso di no eh Oh no mi ha mangiato Percazzuzza Comunque da ste parti non l'ho visto Ok sono entrato su Londra 1 C'è un Trollface, c'è Aaron, che non so chi sia Isaac PKD file Vediamo un po' chi riusciamo a beccare Pepe Oh mio dio Gaben Robba gigante Fidel è enorme Oh Ci hanno ucciso così al volo Essere su Francoforte 2 Vediamo un po' chi troviamo Oh sa cool Sa cool Sa qualcosa Che mangiata Ragazzi ragazzi ci sono Ci sono C'è uno che si chiama Jumpy Di alcune si chiama la 600 di Jumpy Cerca Jumpy Murri 5 Oddio come si fa a scoprire Chi è quello vero? Siamo troppi ragazzi Siamo veramente troppi Mi presti 50 euro Ma dai Jumpy Lezzo Oh cattiva questa Ok qui ci sono tanti di italiani ragazzi Quindi vuol dire che forse siamo nel punto giusto Oppela Ha ammazzato Un mini Jumpy Tech Forse era proprio lui No Quello sta ottavo No no si era lui Era lui La 600 di Jumpy LOL Guardate Con la screen della 600 Non ci credo Vieni qua 600 in fiammi Ti mangio No non ci credo Fuga Un fan Sto per mangiare un fan Vieni qui No non l'ho preso What? Mi è passato sotto E non l'ho preso Uh 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 No C'è pure le parolacce Qui stanno Va bene ragazzi Avete visto questa corsa Alla ricerca di Jumpy Tech Che oggi alle 4 È stato appunto Sopra Agarillo Per una mezz'oretta Con tutti gli altri Speriamo sia stato quello vero E non un fake Lo vedremo sicuramente Nel video che uscirà A lui domani Va bene dai Ci vediamo alla prossima puntata Su Agarillo magari E magari anche con gli altri Fabbug E magari anche con gli altri Speriamo alla prossima puntata